Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, sempre lunedì 19 gennaio 2009, misteri orgiastici dionisiaci, eccolo qua il messaggio di Alessandro 180 577, appena arrivato, mi dispiace per altri blogger, verrà il tempo di altri blogger, ma questo messaggio è un messaggio che richiede interventi immediati, perché ho fatto anche così con altri blogger, certi messaggi debbono essere sistemati in video immediatamente, perché Alessandro 185 77 invia un messaggio intitolato le feste dionisiache, mi chiede se è vero che le tragedie greche fanno parte del patriarcato, mi chiedo come mai le celebrazioni in onore di Dioniso si svolgessero in modo piuttosto libero, con accoppiamenti tra uomini e donne privi di vincoli patriarcali. Anche Nietzsche nella nascita della tragedia mi pare considerasse questi orgi come frutto della personalità più pura e istintiva e che fossero residui del patriarcato? La domanda è che fossero residui del patriarcato? Mi piacerebbe un commento, magari un video su questo tema. Poi visto che ci siamo mi viene in mente un'ipotesi su un altro tema, l'etimologia dei nomi Atene o Atena pensi che abbiano qualche connessione con il nome Adonai che come dice Freud risulta dall'etimo Aton del dio Akenaton. Bene, allora, dunque Dioniso era uno degli dei di Dio dell'Olimpo, faceva parte dell'Olimpo, quindi era una divinità olimpica. In un certo senso noi ricordiamo Dioniso come il dio del vino, in latino era bacco, il dio del vino in senso il dio dell'ebbrezza. Io ho avuto già occasione di parlare di Dioniso in un filmato di cui non ricordo il titolo, ma ho letto alcuni brani delle baccanti di Euripide, le baccanti di Euripide. Questa è un po' una delle tragedie classiche dedicate a Dioniso. Qua si vede per filo e per segno in che cosa consistono i riti misterici dionisi, anzi i misteri orgiastici dionisiaci. Di norma nel patriarcato, specie nella fase transitoria del passaggio, la lunga fase transitoria del passaggio dal matriarcato al patriarcato, si doveva attenuare la durezza della nuova ideologia patriarcale con delle concessioni. Con delle concessioni si doveva concedere alle donne di rivivere in certi periodi dell'anno quella libertà che viceva ai tempi del matriarcato. Ma badate, libertà, molti intendono libertà nel senso di mancanza di regole. No, il matriarcato era un'organizzazione giuridico, economico, sociale, che aveva delle regole ben precise, regole molto precise, solamente che gli accoppiamenti sessuali, non essendo ancora collegati alla nascita dei bambini, gli accoppiamenti sessuali non essendo ancora legati alla nascita del bambino rivestivano una valenza diversa da quella che si è data loro dopo la scoperta invece del nesso di causa e effetto tra atto sessuale e nascita dei bambini. Allora si consentiva alle donne di riunirsi e di celebrare il Dio, sacrificare al Dio in maniera orgiastica, ma di solito erano riunioni solamente femminili. di celebrare a Dio in maniera orgiastica previa utilizzazione di bevande orgiastiche come il succo, il succo derivato dalle foglie dell'alloro. Ecco, allora io consiglio a tutti i lettori di leggere questa tragedia, le baccanti di Euripide, anche per avere conoscenza su come veniva considerato Bacco, Dioniso, dalle donne. Lo chiamavano di Dio dolce e sorridente. Non per caso, nell'ultima fase della sua vita, Nice, qua me lo ricorda l'amico blogger, me lo ricordo, e Nice si firmava non Gesù crocifisso, ma si firmava Dioniso crocifisso. Il grande Friedrich Nice si firmava e si chiamava Dioniso crocifisso. Sono moltissimi paralleli che possiamo fare tra Dioniso e la figura di Gesù. Anche Dioniso era un Dio che nasceva, moriva e poi risorgeva, come quasi tutte le divinità misteriche, non legate al culto classico, della mitologia classica. Quindi, residui del patriarcato? Certo, certo. Ho già detto che in tutte le tragedie greche, Eschilo, Sofocle, Euripide, in tutte le tragedie greche noi troviamo i residui del patriarcato. Che cosa sono le tragedie greche? Se non tragedie basate sullo spargimento di sangue all'interno della famiglia monogamica patriarcale, diciamo pure neonata, insomma, è neonata. Tutte le tragedie greche si basano su orribili spargimenti di sangue all'interno della famiglia monogamica patriarcale, che per passare, per imporsi, ha dovuto veramente scorrere il sangue, il sangue che vediamo nelle tragedie. E va bene, cari amici, sì, rispondo alla domanda. I riti orgiastici, i misteri orgiastici e dionisiaci sono un ritorno del rimosso. Nello stesso regime patriarcale il patriarcato ha dovuto consentire alle donne imprigionate una valvola di sfogo. Questa valvola di sfogo la vediamo anche in tante feste dell'antica Roma, analoghe. Però attenzione, attenzione, a queste feste di solito erano esclusi gli uomini. Gli uomini che vi partecipavano potevano anche subire delle sorprese molto amare, compresa la morte. Questo show è descritto molto bene questa tragedia. Poi per quanto concerne l'altra domanda, sì, potrebbe esserci il collegamento tra il movimento Atena, Ateni, Ateni, Atena, Adonai, Aton, Achenaton, anche perché all'origine, guarda caso, la dea Pallade Atena era una divinità libica, una divinità proprio libica. Guarda caso, la Libia è confinante con l'Egitto, quindi il nome poi tramite i traffici e i commerci è approdato nella Vicenia. Va bene cari amici, qua mi fermo, ma ci sarebbe materia per una ben altra permanenza sul video. Cari saluti a tutti voi se mi avete ascoltato e a risentirci al prossimo video. Saluti da Serafino Massoni.